Chieti in festa per onorare San Giustino, questa mattina nella cattedrale che porta il nome del santo patrono del capoluogo teatino, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha preseduto la Santa Messa e il rito dell'ordinazione episcopale di Monsignor Mauro Lalli, nominato da Papa Francesco, arcivescovo titolare in provincia di Macerata e nunzi apostolico in Papua Nuova Guinea. La Messa, trasmessa in diretta sul Reteotto, è stata concelebrata dall'arcivescovo di Chietivasto Monsignor Bruno Forte e dal presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica Monsignor Salvatore Pernacchio. Il nuovo presule Mauro Lalli, abruzzese e originario di Atessa, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il 1 luglio del 1999, ha prestato la propria opera nelle rappresentanze pontifice in Guatemala, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico, Romania, Croazia, India, Iraq, Giordania e Cipro. Durante la cerimonia odierna è stato evidenziato come un uomo di fede, ricco di amore alla Chiesa e di grande competenza pastorale e diplomatica come Monsignor Mauro Lalli, potrà fare molto bene in un ruolo di grande responsabilità come quello che gli è stato affidato e che si donerà senza riserve al servizio della Chiesa in totale comunione e obbedienza al successore di Pietro. Con la processione di ieri pomeriggio la festa di San Giustino è ufficialmente partita. Le cerimonie religiose si affiancano iniziative organizzate dall'amministrazione comunale e da associazioni cittadine, tutti particolari sul sito di informazione reteotto.it